Ho una lecometta a casa? Non ho una lecometta, non conosce nessun parente che è posto adere oltre. Praticamente noi abbiamo il progetto di appartamento di caccia, chiesa e basso, in un museo. E veniamo qui a sopraffare la lecometta e poi rispondiamo il museo. Questo è il caso di un costo durante il suo. Ma io c'erano un'idea antica. Antica, perfetto. È dentro i ricorsi? No, ma... Contiene... Signora, venga a lasciarmi con contatto immediatamente. Madonna, mio marito mi ammazza. Come la... Non dobbiamo rubare niente o non dobbiamo vendere niente? Oh, beh, bene. Dietro c'è il numero. Sì, ti telefono io, ne parlo con lui e ti telefono io. Ok, io sono Giulia. Io sono Anna. Piacere. Ciao. Arrivederci, signora. Buon pomeriggio.